buongiorno ragazzi sono il conducente di questo pullman mi sentite? si ecco che nessuno mangi nel pullman perché l'ho lavato stamattina come l'avete trovato lo dovete lasciare e soprattutto l'educazione non schiamarsi e non urla va bene? si buon viaggio oh scemo anche se di notte suona la sirena anche se di notte suona la sirena quando noi usciamo nessuno più ci frena quando noi usciamo nessuno più ci frena il popolo è la paura il popolo è la paura se facciamo un incidente vorrò lo congente se facciamo un incidente vorrò lo congente